vi insegnerò l'accordo di so maggiore è questo qua adesso ti insegnerò passo dopo passo come suonarlo andiamo per questo passo qui vedi abbiamo il dito 1 corda 5 1 2 3 4 5 tastiera 2 tastiera 1 tastiera 2 qua dito 2 sopra corda 6 e dito 3 corda 1 ricordandovi ricordandovi che dobbiamo suonare nella punta del dito così vicino al tasto questo modo è così il meglio modo di imparare è facendo questo toglie toglie mette un'altra volta corda 5 tastiera 2 corda 6 tastiera 3 e corda dito 3 tastiera 3 corda 1 dito 1 corda 5 1 2 3 4 5 tastiera 2 dito 2 corda 6 tastiera 6 adesso dito 3 corda 1 e tastiera 3 bravissimi questo qua l'accordo di so maggiore provi di fare questo prima di andare per il prossimo accordo fai questo esercizio fino a che suoni con una qualità buona di suono non fai così adesso voglio andare per il prossimo non è meglio di essere qua per più tempo ma avere un buon suono prima di andare per il prossimo va bene sol maggiore è il nome di questo accordo possiamo dire sol maggiore oppure la la lettera di